Siamo al turno di domenica mattina, è la quinta partita, battaglie 935, battaglioni 729, Pelagatti 590, Giovannini o Giovannoni 662. A fianco sulla pista a fianco c'è Francescini 563, Ambrodi 691, Dieni 674 e Giuliani 664, questo è il primo treno. Il Brascio www. relaxingondesimalixer.com Grazie. 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 Ma guarda. Luca. Ma che sta in diretta Mattalini? Non so. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.